Musica La Toscana, regione prima in Italia, la sua legge per cercare di salvare i balneari dalla mannaia della direttiva Bolkestein che vuol mettere all'asta le concessioni dei maniali marittime già dal 2016. Con questa nuova legge tutta toscana votata a maggioranza dal Consiglio regionale, le imprese balneari potranno chiedere il rilascio di una nuova concessione da 6 a 20 anni proponendo però un piano di investimenti. Per investimenti noi non pensiamo solo investimenti sull'impresa all'interno della concessione ma immaginiamo la possibilità di creare delle forme di complicità fra il comune e le imprese anche per risolvere questioni di piccola infrastruttura, di messa in sistemazione idraulica, di protezione della duna o della linea di costa. La legge prevede anche il diritto ad un indennizzo pari al 90% del valore dell'azienda nel caso che la concessione non venga rinnovata. Su tutto grava però anche l'incognita della sentenza della Corte Europea che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di proroga alle aste fino al 2020 presentata da Italia, Spagna e Portogallo. Per questo la regione ha deciso per questa strada. Al di là di come si concluderà la sentenza della Corte Europea sta per emanare chi avrà ottenuto la nuova concessione per 20 anni può non impattare in questo conflitto. La nuova legge regionale però è stata oggetto di forti critiche da parte dei balneari che hanno inscenato un presidio di protesta davanti alla sede del Consiglio regionale dicendo che il provvedimento anticipa la direttiva Bol che sta immettendo di fatto a gara le concessioni. Secondo il Movimento 5 Stelle la legge sarebbe incostituzionale perché viola il codice di navigazione. La condizione femminile in Europa e nel mondo al centro della sesta edizione di The State of the Union l'evento internazionale organizzato dall'Istituto Universitario Europeo dedicato ai temi politici dell'Unione. Firenze sarà così ancora una volta straordinaria location della tradizionale tre giorni di incontri e dibattiti che si snoderanno tra le mura di Palazzo Vecchio, Villa Salviati e la Badia Fisolana dal 5 al 7 maggio. La donna al centro del grande confronto mondiale attraverso la realizzazione di approfondite analisi sulla condizione femminile, sui traguardi raggiunti e quelli perduti ma anche sulla figura della donna in quanto tale vista attraverso la lente delle molteplici culture globali. Tante le personalità politiche e non che prenderanno parte ai lavori dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco al presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz e da numerosi parlamentari europei fino al premier Matteo Renzi presente venerdì 6 maggio nel Salone dei 500. Nell'ultimo giorno dell'evento, sabato 6 maggio, l'Istituto Universitario Europeo aprirà le porte ai visitatori in uno straordinario open day offrendo al pubblico l'occasione di conoscere da vicino la realtà dell'Istituto e gli archivi storici dell'Unione Europea. The State of the Union è ormai un evento consolidato e atteso, ha dichiarato il sindaco Dario Nardella che serve a fare il punto sui progetti di integrazione e sviluppo dell'Unione e che quest'anno cade in un momento particolarmente importante per il futuro dell'Europa. La pressione fiscale morde sempre di più le imprese e gli artigiani toscani a dirlo è il rapporto di CNA comune che va ai fisco che trovi condotto su 124 capoluoghi di provincia e regione. Se il peso complessivo del fisco, il cosiddetto total tax rate, si attesta al 61% in Italia in Toscana sono tre i capoluoghi di provincia che nel 2016 superano la soglia Livorno al 62,3%, 42esimo posto in classifica, Grosseto al 64,9% al 20esimo posto e Firenze che con il 68,5% si piazza al quarto posto tra i primi dieci capoluoghi italiani in cui la pressione fiscale è maggiore. In pratica un'impresa fiorentina dovrà lavorare fino al 7 settembre per pagare le tasse. Tra le toscane è Arezzo ad avere la tassazione più bassa per le imprese che comunque si attesta al 55,3%, dati preoccupanti per la CNA toscana che nel macigno delle tasse vede un freno alla già debole ripresa economica. Il Compartimento Polizia Ferroviaria della Toscana ha in questi giorni effettuato servizi di controllo straordinario del territorio allo scopo di prevenire e reprimere il fenomeno dell'attraversamento dei binari, spesso causa di incidenti mortali che vede coinvolti soprattutto giovani e adolescenti. Nel corso dell'attività sono stati effettuati sette controlli nella provincia di Firenze e 29 in altrettanti scali toscani, conclusi con la ratifica di tre sanzioni amministrative. Tale azione repressiva, messa in atto grazie all'impiego di 77 operatori della Polizia Ferroviaria, non è l'unica iniziativa promossa per arginare il fenomeno. Durante l'anno, infatti, molteplici sono state le iniziative tese a sensibilizzare la popolazione giovanile all'uso consapevole e corretto del mezzo ferroviario. Progetti che si affiancano all'azione della Polizia Ferroviaria, tesa a soddisfare la domanda di sicurezza dei cittadini.